Musica Registrato il tutto esaurito per la nona edizione di Charmin Rosa, la Kermesse dedicata ai vini rosati di Puglia, organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier Puglia nella dimora storica di Torre del Parco a Lecce. Un momento di incontro e confronto tra i rappresentanti istituzionali, produttori e sommelier che ha preso il via con il convegno dal tema Il Rosato Pugliese sul sentiero antico e verso nuovi traguardi. Spazio poi alla degustazione nella serata curata dalla delegazione AIS Lecce di oltre 150 vini rosati e 50 oli extravergine di oliva pugliesi raccontati dai sommelier dell'AIS e proposti in abbinamento alle specialità gastronomiche pugliesi. Una festa in rosa organizzata con il patrocinio della Regione Puglia per celebrare uno dei caratteri identitari del territorio. La Regione Puglia è tra le prime sei regioni italiane per il movimento del turismo del vino, per la straordinaria presenza di cantine che aprono i loro bei luoghi al turismo e quindi con le degustazioni riescono a far assaggiare i prodotti di Puglia insieme a un buon vino. Ovviamente questo evento è importante perché l'associazione sommelier che l'organizza, quindi persone di grande competenza che quando parlano di vino sanno di che cosa si parla e uniscono perciò la competenza sul prodotto e con la voglia di abbinarci cultura e turismo. Io credo che questo sia un grande messaggio che può partire proprio dalla Puglia. Cultura, enogastronomia e paesaggio e quindi anche coltivazione di prodotti sui quali ci si dedica non solo per gustarli ma anche per raccontarli sono fondamentali e questi tre strumenti che abbiamo per comunicare noi stessi è importante che siano diffusi quanto più è possibile. Allora benvengano queste iniziative che portano Lecce e la Puglia ad una dimensione sicuramente di passione, di determinazione a raccontarsi e a farsi conoscere. È uno degli eventi più attesi dell'anno perché rappresenta in effetti un evento dedicato a un colore donna, rosa, ma a una realtà che si sta affermando non solo all'estero ma anche in Italia. Il consumo dei rosati sta aumentando sia in versione secca, normale, sia in versione di spumatizzazione dolce, in metodo classico charmat e quindi stiamo continuando a rinforzare questa produzione, a farla conoscere con le nostre degustazioni, con la comunicazione nei vari territori perché comunque la produzione è cresciuta, come è cresciuto il consumo. E questo grazie al fatto che il territorio della Puglia racchiude un comparto che si dedica ai rosati differenziato da nord a sud, dal Nero di Troia, al Negramaro, al Primitivo e ad altri vitigni autoctoni che continuano a cimentarsi in questo lavoro di vinificazione in rosa.